Seconda parte di Passione Politica, stiamo parlando con Franco Corleone, garante regionale per i diritti dei detenuti. Allora, alla luce di tutto quello che abbiamo analizzato fino adesso, facciamo qualche esempio pratico, perché la situazione delle carceri toscane purtroppo non si discosta dalle altre, non ci differenziamo da questa situazione che ci ha portato comunque a una condanna nazionale di fronte al palcosciarico del mondo, per lesione dei diritti delle persone. In Toscana intanto diamo qualche numero, quanti sono i detenuti e le strutture che li accolgono, quanti li potrebbero invece contenere? Dare i numeri è una bella espressione in questo caso, ma diciamo che noi in Toscana abbiamo più di 4 mila detenuti e i posti letto sono mille di meno, questo è l'ordine di grandezza dei problemi. Non sarebbe difficile se venisse fatto quello che dicevamo prima, avere molti posti liberi e quindi cominciare a lavorare per migliorare le strutture che hanno bisogno di ristrutturazioni profonde, non solo quelle, le carceri vecchissime, ma anche sullicciano avrebbe bisogno di una ristrutturazione incredibile almeno sui tetti per impedire che l'acqua precipiti all'interno di tutto l'istituto. È tutto uguale? Diciamo che in Toscana ci sono moltissime realtà, è una regione ricca anche per le carceri perché c'è di tutto, c'è l'ospedale psichiatrico giudiziario, ci sono le isole che significa Porto Azzurro, Pianosa, Gorgona, Pianosa è un capitolo a parte ma l'ho voluto ricordare perché molti pensano che possa risolvere i problemi ma non è così, ci sono le carceri delle città, Firenze, Prato, Pisa, Livorno che sono grossi istituti sovraffollati perché c'è l'ingresso degli arrestati e quindi le persone in attesa di giudizio. Ci sono carceri come Volterra che invece hanno una struttura architettonica tale che lì il sovraffollamento non c'è perché più di uno per cella non ci può stare ed è un luogo che ha questa realizzazione del teatro della compagnia di Volterra che l'ha fatto diventare un modello assieme poi con altre iniziative come le cene, galeotte e altre. Poi abbiamo carceri diversi, più piccoli, insomma quindi una realtà composita. bisogna, io sogno che la Toscana diventi la regione con la migliore applicazione della riforma, con l'amministrazione penitenziaria e con la regione e con i comuni credo che si possa arrivare a questo risultato se ci saranno quelle precondizioni che ho detto. Da questo punto di vista per esempio immaginare un impegno di tutte le realtà territoriali per accogliere il Presidente Rossi ha detto 300, anch'io ne avevo parlato forse pensando a Pisacane, insomma 300 tossicodipendenti fuori dal carcere è già una cifra che potrebbe diventare anche più alta perché in Toscana parliamo credo di mille tossicodipendenti in carcere. Tossicodipendente spieghiamo perché va in carcere? Tossicodipendente va in carcere per molti motivi, primo perché è un emarginato, secondo perché fa dei furti spesso stupidi, poi perché magari fa delle attività di piccolo spaccio, sono tante le ragioni. Sono sempre cose piccole azioni diciamo. D'altronde l'ha detto anche Papa Francesco, le persone importanti in carcere non vanno tranne qualche caso, normalmente non ci vanno o ci stanno poco. Allora dove però uscire dal carcere per andare dove, per fare che cosa? Ecco, io penso che questo deve vedere l'impegno dei CERT, dei servizi pubblici per le tossicodipendenze, le comunità terapeutiche, il territorio, bisogna per alcune persone non ci sarebbe io credo bisogno di un progetto terapeutico ma solo un progetto di vita e quindi una struttura per avere un momento di ripensamento, di un'esperienza e avere la possibilità di una vita diversa e quindi anche di lavoro, di abitazione. Ora per tutto questo occorre, ecco, queste persone non devono essere concentrate in un luogo. Credo che l'esempio a cui pensi il Presidente Rossi è quello che è stato fatto per i profughi, non concentrarli in una mega struttura ma che si ghettizza per definizione. Ma disseminarli sul territorio, quindi allora integrarli. Allora, per rendere l'integrazione più facile. E io penso che sia più facile in un centro di mille o cinquemila abitanti accogliere due, tre, cinque persone piuttosto che tutte in una grande città o in un luogo unico. Perché c'è più controllo sociale e più disponibilità a conoscere e anche a far fare magari dei lavori di pubblica utilità o socialmente utili in modo che le persone si integrino. Ecco, io penso che questa possa essere una grande opportunità. Certo, la Regione può anche utilizzare, io credo, le possibilità che la Costituzione offre di presentare al Parlamento delle proposte di legge e io dico in particolare su quei temi di modifica delle leggi che fanno affluire tante persone inutilmente in carcere in modo da spingere il Parlamento ad agire. Perché a me quello che lascia perplesso e disorientato e mi preoccupa è che molte voci si levino contro l'ipotesi, l'ipotesi di amnistia indulto, dicendo ma facciamo questo, cambiamo la legge finigiovanardi sulle droghe. Io però temo che non si faccia né l'amnistia né la modifica. Allora questo sarebbe poi per l'Italia una catastrofe perché chi ci ascolta lo sa perché è stato detto molte volte che nel giugno 2014 inizierà la responsabilità italiana del semestre di conduzione dell'Unione Europea. Ora io mi immagino come l'Italia possa assumere questa responsabilità col marchio di paese torturatore, credibilità zero. Allora ecco la preoccupazione anche del Presidente Napolitano di dire facciamo qualcosa e ha detto tutto quello che c'è da fare, anche non escludendo un'ipotesi di clemenza o di giustizia come l'amnistia e l'indulto. La parola e adesso io suggerisco che il Parlamento non affronti episodicamente le cose ma dedichi una sessione parlamentare. Come si fa la sessione di bilancio? Si faccia una sessione per la giustizia e il carcere e si risolvano tutti i problemi che sono sul tappeto in maniera coerente in modo che non si approvi un provvedimento oggi e fra due mesi se ne approvi un altro che è in contrasto. In realtà per la fine il problema non viene affrontato, abbiamo solo un minuto a disposizione, però le chiedo l'Ufficio del Garante come funziona? Il Garante regionale per i diritti dei detenuti come opera? Intanto riceviamo sollecitazioni dai detenuti che scrivono, poi ci sono le visite, io inizierò la prossima settimana alle visite di tutte le carceri toscane, in Toscana per fortuna ci sono 5 garanti in realtà specifiche e quindi la collaborazione è ricca anche da questo punto di vista e la verifica di quello che si fa, per esempio a giorni inizieranno delle sperimentazioni in Toscana di apertura delle celle per 8 ore al giorno, mentre oggi vengono aperte 2 o 3 ore al giorno, ecco è una prova Cosa vuol dire apertura? Significa che i detenuti non stanno ammassati nelle celle senza possibilità neppure di mangiare o leggere o studiare, ma avranno altri luoghi per fare attività, non per stare in ozio, perché stare in ozio in cella o stare in ozio in un altro luogo, vediamo, questo è un esperimento importante per un carcere diverso, un carcere trasparente, un carcere che fa vivere e offre opportunità, è una scommessa, la giocheremo e credo che questo ci potrà aiutare però a dire che il carcere non può avere il destino solo di essere una prigione senza luce, senza luce soprattutto dove magari si ritorna oppure ci si uccide, certo, senta da ringrazio infinitamente, seguiremo questo percorso perché mi sembra molto importante documentarlo, grazie ancora Franco Corleone, grazie a voi per l'attenzione, buona serata a tutti.